La classica tortilla de patata in chiave veg o farinata di patate cipolle. Per farla tagliate sottilmente una cipolla e la mettete a rosolare in una padella con olio, sale e mezzo bicchiere d'acqua. Appena passita la togliete e la mettete da parte. Tagliate finemente due patate, la mettete a cuocere nella stessa padella con sale, acqua e la fate cuocere per circa 15 minuti. Nel frattempo preparate la pastella con 100 g di farina di ceci, 200 g di acqua, un pochino di sale e del timo fresco. Quando anche le patate sono pronte unite tutto patate e cipolle nella pastella e rimettete a cuocere in una padella con un filo d'olio. Schiacciate, coprite e fate cuocere anche qui per circa 15 minuti a fuoco medio, poi girate e portate a cottura. Ecco, non fate come me che me la sono dimenticata l'ho un po' bruciacchiata.